Il premio internazionale di poesia L'Aquila Biper intitolato alla Domi a Bonanni arriva alla ventesima edizione. Sabato ci sarà la cerimonia di premiazione che vedrà la presenza di Carmen Yanex, poeta cilena, compagna di Luis Sepolveda, grande interprete della poesia latinoamericana. Il premio torna in presenza, l'anno scorso fu online, così come la Biper riapre la sua sala conferenza in centro storico dopo aver riaperto la serie centrale per il corso dopo 12 anni dal sisma. La banca continua così il suo sostegno alle attività della città. La Biper continua a sostenere questo premio che è alla ventesima edizione ed è un momento importante e la presentazione, la conferenza stampa di questo premio oggi si realizza non come lo scorso anno in web ma in presenza finalmente e aggiungerei anche nel contesto della sede storica della banca, riaperta pochi mesi fa al pubblico, un premio importantissimo, espressione di vicinanza di Biper Banca alla cultura, così come sua vocazione per tutte le manifestazioni supportate sull'intero territorio nazionale. A presentare il premio anche la Fondazione Carispa che la Giulia del Premio con l'assessore al turismo Fabrizia Quiglio, un premio che non ha perso mai negli anni il suo smalto e la sua qualità, con ospiti sempre prestigiosi. Tre sezioni, tre finalisti saranno indicati venerdì e il coinvolgimento delle scuole della città con un incontro sempre venerdì con la Ianex. Salta purtroppo la sezione dedicata ai tenuti che ogni anno prima del Covid portava la poesia nel carcere di Preturo. Nella poesia della Ianex, Forti Iachi Memoriali, estruggente il sentimento verso la madre come verso tante amiche scomparse nel carcere cileno, il suo pensiero è molto attuale e solidario aperto alla speranza verso le tante donne migranti di oggi, con le quali condivide la sofferenza dell'esilio e della patria tanto amata, condiviso con il compagno. Un sodalizio di poesia e amore tra la Ianex e sepolveda, come ha ricordato l'onorevole Stefania Pezzopane, una delle fondatrici del premio così longevo. L'ospite denore è una poeta cilena, Carmen Ianex, compagna di Luis Sepulveda, un sodalizio amoroso e di poesia straordinario. 20 anni di cultura, 20 anni di poesia, abbiamo superato tutte le vicissitudini, terremoto e pandemia, e siamo tornati qui in Biper, quindi questa edizione è un'edizione speciale, i tre premiati sono tre grandi figure della poesia nazionale, siamo molto felici di essere tornati in presenza.